Veneti, che è un'occasione storica per la nostra indipendenza. Presidente Zaian ha messo a disposizione un conto corrente dove versare una cifra minima di 20 euro per dimostrare che teniamo veramente la nostra indipendenza. Ricordiamoci che abbiamo da guadagnarsi, abbiamo da meritarsi e questa è un'occasione da non perdere per meritarsi. Il referendum per l'indipendenza del popolo Veneto è un'occasione unica per rivendicare i diritti della nostra terra. Mighe son e ti, questo è il slogan che si dovrà usare per raccogliere i fondi per il referendum. Nessuno ne darà mai schei, figurate se Roma adesso ne sarà a fare il referendum, ma servirà per emancipare la nostra terra e per ridare i diritti che ne spetta. Questa è la nostra bandiera, non è solo un tocco di stoffa ma bensì è un simbolo, un simbolo che però da noi altri Veneti avevamo nel cuore. Cos'è che domandiamo? Neanche domandiamo che veniamo a riconvocare ancora, riconvocare per cosa? Perché quando c'è già il plebiscito nel 1866 siamo andati a votare con un plebiscito truffa, cioè siamo andati a votare con una casea dove c'era scritto sì e no davanti a dei gendarmi armati e questo non è stata una roba democratica. Abbiamo la possibilità di avere indipendenza, è da anni che stiamo soffrendo una situazione ormai intollerabile, è ora che finalmente esprimiamo la nostra opinione. Adesso abbiamo la possibilità di fare il referendum, vi prego, andiamo a votare e anche siccome in Italia c'è bisogno di schei a fare tutto, c'è la possibilità anche di fare un versamento. Facci questo versamento per agevolare e avere la possibilità di fare veramente questo referendum. Veneti, svegliavi. È fondamentale, ispira una nuova aria di libertà in tutta Europa. Sull'esempio di Scozia e Catalogna è giusto che anche i Veneti possano decidere per il proprio futuro di libertà. Basta tentennamenti, basta rinvii che i Veneti possano celebrare il loro referendum. Ci auguriamo quindi che tutti coloro che credono nella democrazia, nella libera espressione della volontà popolare nel nostro Veneto, diano un sostegno concreto a questa iniziativa. Adesso che la Scozia e anche la Catalogna manifestano la sua volontà di indipendenza in maniera democratica, voi Veneti dovevi veramente darvi una risposta e dare il referendum per il voto previsto proprio per dare realizzazione a quel sogno di Veneti. Adesso si arriva un momento che si è finito e ciò, si è finito di dire se ma bisogna che la politica faccia questo, la politica faccia quello. Abbiamo un'opportunità storica, si è quella del referendum sull'indipendenza del Veneto. Perciò mi chiedo con la massima onestà, facciamo questo contributo e questo bonifico per mettere in piesto questo referendum, perché solo questo referendum possiamo dare un futuro a tutti quanti.